Il basket Bellizzi ha portato a termine l'operazione a gancio grazie ad una grande rimonta. Il quintetto di coach Coppola ha raggiunto il primo posto nel girone B della Serie D. Il basket Bellizzi del presidente Fortunato sfrutta appieno lo scivolone del Volla a Portici e raggiunge i partenopei in testa alla classifica. Assieme al Piscinola vittorioso sulla cestistica Napoli nell'ultimo turno del campionato regionale di Serie D, sebbene abbia fin qui disputato una partita in meno rispetto alle altre due contendenti. Il quintetto di coach Coppola al pala Berlinguer ospita la Procangiani, già forte del risultato negativo del Volla. Senatore e compagni fanno fino in fondo il loro dovere, non concedendo nulla agli ospiti sin dalle prime battute del match. La squadra giallo-blu parte a razzo, chiudendo il primo quarto sul 26-6, difendendo forte già dalla metà campo avversaria e puntando sul contropiede. Nei quarti successivi il team allestito da Fabio Scannapieco riesce ad aumentare il proprio margine di vantaggio e chiude il match con un perentorio 88-40. 17 punti per Palmentieri, 16 per Bassano, 11 per Vivone, 8 per Fabrizio Dragoni e Vincenzo Ferrara. Ma in generale tutti i ragazzi di coach Coppola danno il proprio contributo alla causa comune. Nel prossimo turno Bellizzi farà visita al Casa Pulla prima di ospitare lo scontro diretto decisivo con Volla al pala Berlinguer.